Inizierò dal momento in cui vidi mio padre felice. Ehi, salve. Cosa ti sei fatto? Ho fatto un incontro. Felicitazioni. Non avevamo soldi, ma eravamo innamorati pazzi. Insomma, tu meriti di più. Dobbiamo andarcene via. Stai parlando sul serio? Non conosci qualcuno pratico che possa aiutarci? Se imbocchi quella strada sarà come un biglietto di sola andata. Quindi sei la sostituta infermiera? London Baby! Il soggiorno, la stanza giochi, anche se vi auguro che i vostri figli non nascano qui. Eravamo una famiglia felice. Ma papà quando arriva? Niente avrebbe potuto separarci. Il punto sono io. Io e la mia vita. Agli ordini, campione. Devo pure allenarmi. La box è l'unico ricordo bello che ho dell'infanzia. Quelli non sono mai stati i miei sogni, lo capisci? Hai un marito che combatte nel campionato mondiale, ti pare poco? Perché tu per questa gente sei niente? Vado a sbattere la testa come mai la tua mogliettina era così triste. Non mi fido. Questo è un bel problema. Esatto, hai detto fin dall'inizio... Il tuo sogno è finito! Voglio che tu sappia che sono sempre qui a sostenerti. Vedrai che sogno. Combatti. Non arrenderti. Non arrenderti. Grazie a tutti.